Shalom, Shalom, Shalom Eccoci qui con un'altra lezione e come solito prima di tutto vorrei lodare, ringraziare e dare tutto l'ordi dovuti al padre Yahawa nel nome di suo figlio il nostro re e rendentore Yahawa Shai i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone, abbreviato GMS che mi hanno insegnato questa verità che sto per condividere con voi i miei saluti alla Casa di Israele a un terzo della casa che con sincerità cerca la verità alle poche sorelle che cercano la verità e ai 144.000 eletti di Israele sparsi su tutta la terra miei saluti questa lezione la faccio perché ieri ho visto, ho ricevuto un commento su un video un fratello che mi aveva ringraziato, una sorta di ringraziamento e complimentato per un video che ho fatto riguardo il microchip e i miei saluti anche a quel fratello solo che lui aveva scritto il nome del padre come Yahweh che poi ha scritto un po' cos'altro che non so cosa è e ho pensato di fare una lezione riguarda il nome vero del padre e prima di iniziare vi dico il nome vero del padre è Yahweh non è Yahweh, non è Geova, non è Dio non è tutto quello che il mondo lo chiamano il nome vero è Yahweh e con questo video spero che con la forza del padre Yahweh coloro che sono stati eletti fin dall'inizio a capirlo riceveranno il messaggio inizio leggendo da questo libro che è qui libro dei primi corinzi capitolo 3 e leggo da versetto 18 che dice nessuno si ingani se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo diventi pazzo per diventare saggio perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti al Yahweh ok infatti è scritto Egli prende i sapienti nella loro astuzia ok il punto da prendere qui la sapienza di questo mondo è pazzia davanti al padre Yahweh coloro che sono iscriviti oggi scienziati i professori e le loro conoscenze sono delle pazzie sono nulla infatti abbiamo visto con il tempo che maggior parte delle cose che ci hanno insegnato finora sono se non tutto sbagliato ma maggior parte sbagliato ora andiamo a leggere dalla Wikipedia e in Wikipedia sulla macchina di ricerca ho scritto Yahweh e una cosa che vedete qui è la foto che hanno messo qui questo sarebbe il nome del padre ok ok ma questa lingua che vedete qui è una lingua ormai perduta ma alcuni lo hanno ritrovato di nuovo perciò nelle scritture il nome del padre è scritto così ok si legge da qui a qui e così e e yod a va 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 perché v non esiste poi comunque andremo avanti a vederlo e si pronuncia yah ha va ok yah ha va andiamo a leggere il mondo conosce il nome come Yahweh infatti il nome è scritto così nelle scritture e una cosa che vi verrà in occhio è che questa lingua è ebraico antico ma l'ebraico come vedete qui è ebraico moderno è una lingua rifatta e non ha nulla a che fare con questa lingua antica ok perciò la lingua ebraica che parlano in Israele oggi non ha nulla a che fare con questa lingua antica non si assomigliano nemmeno ok e vi andiamo a leggere qui c'è scritto Yahweh in ebraico Yahweh avete visto le lettere questo è questo è ebraico ebraico in ebraico anche Yahweh ok in italiano anche Yahweh o Yahweh pronuncia Yahweh ok è il dio nazionale del popolo ebraico ebraico descritto nella bibbia ebraica è il dio padre della trinità del cristianesimo che si fonda presunto sull'ebraismo andiamo avanti avete visto questo è ebraico antico che queste due sono le stesse cose ok scritto in maniera diversa e questa invece è la nuova ebraica che hanno rifondato e si chiama questo nome Yahweh vedete qui si chiama anche il tetragram anzi andiamo avanti a leggere ok queste sono delle foto questo penso si trova dove il tetragram che vi dicevo perché ha tre tre pronunci tre tre pronunci Yahweh Yahweh ok ma tutto questo è falsificato e vediamo chi è che ha fatto questo nome qui chi ci ha questa è la chiesa di San Lorenzo a Parma che c'è scritto Jehovah infatti nella lingua antica la letra Je la letra V O non esiste non esistono ok e non sappiamo da dove li hanno tirato fuori e questa foto qui che è una foto brutta e molto massonica si vede che quando vedete questi raggi qua non ha a che fare con i dei del sole ok e hanno messo il nome in mezzo beh se la possono permettere intanto non è il vero nome del padre il vero nome del padre è questo è questo perciò loro hanno creato una nuova lingua che andremo poi a vedere l'origine di questa lingua e chi sono questi ok è qui il culto dedicato da parte degli ebrei è attestato a parte dell'età del ferro nei regni ebraici di Israele e Giuda insieme ad altre divinità delle regioni siro-palestinese fra cui in un primo momento potrebbe aver avuto una consorte femminile Asherah ok questo la Bibbia parla anche di questo questi dei pagani dei figli di Cananeti perché i figli di Israele hanno preso la terra di Canaan ok l'incertezza è dovuta alla difficoltà di chiarire se i siti archeologici in cui Yahweh è associato ad altre divinità siano siti ebraici o cananei e al fatto che Asherah potrebbe indicare non una dea ma un oggetto di culto dopo il periodo dell'esilio babilonese nel VI secolo avanti Cristo Yahweh risulta con certezza essere stato promosso a Dio unico nella religione ebraica soppiattando definitamente El El Dio supremo della religione del vicino oriente assumendo gli attributi tra cui gli epiteti El Shaddai Dio Onnipotente e El 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 Dio Altissimo avete visto qui hanno iniziato a dare dei nomi delle cose che non hanno intanto continuiamo a leggere poi tirerò fuori dei punti nella Bibbia ebraica nella quale quindi secondo la tradizione esegetica Yahweh ed El sono da interpretare come lo stesso Dio Egli è descritto come potente creatore ok G.R.S.1 ma anche legato da un patto con la famiglia di Giacove severo nel punire le colpe attento verso i penitenti e farsi al tene Dio locale o Dio universale protettore del popolo israele avete visto anche qui Wikipedia vi fa capire che il Dio della Bibbia ha a che fare solamente con il popolo di Israele ok abbiamo già visto questo in tanti video che ho fatto nel passato continuiamo a leggere origine e pronuncia del nome il nome in una delle sue forme Yahweh e altre rappresenta una translitterazione avete visto quando vi dicono translitterazione non è la stessa cosa di traduzione ok una translitterazione non è una traduzione in una lingua moderna dell'ebraico biblico avete visto una lingua moderna dell'ebraico biblico e scusatemi questa lingua è un ebraico moderna perché non l'hanno ritenuto la lingua ebraica quella antica ora andremo anche a vedere parola composta parola composta da quattro lettere yod yod e va ecco in qualche modo corrispondente alle quattro lettere dell'alfabeto latino yoh 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 ecco da dove viene questa parola tetragama perché ha tre tre compone di tre lettere ok la lingua ebraica tutto oggi è dotato solo di lettere di valore consonantico perché nell'ebraico antico questi non c'erano ma alcuni si sono ok continuiamo a leggere scusatemi mentre la vocalizzazione spesso indispensabili ai fini del significato delle parole è indicato ortograficamente attraverso altri segni diacritici ok notazioni vocali che introdotte in epoca molto più tardi introdotte in epoca molto più tardi delle consonanti utilizzate dai massoretti solo nel corso della seconda metà del primo millennio dopo cristo ok per meglio definire il testo biblico allora avete visto questi consonanti questa nuova lingua ok l'ebraico moderno è stato creato dai massoretti che poi andremo a vedere ma prima di arrivare lì andiamo a vedere un attimo ebraico ok con lingua ebraica in ebraico israeliano ok si intende sia ebraico biblico classico sia l'ebraico moderno ok cioè loro coprono la verità sempre aggiungendo una parola biblica comunque quello che intendono è l'ebraico moderno lingua ufficiale dello stato di israele lo stato di israele se cliccate qui vedrete che anno è stato creato mi sa nel 1948 se non sbaglio ok che è stato creato dai figli di Amalek ok gli americani che sono discendenti delle saù ok che sono diciamo i romani moderni i romani moderni ok ho già fatto un video riguardo i malvagi per capirne di più basta tornare dietro a vedere chi sono i malvagi ok continuiamo a leggere l'ebraico moderno lingua ufficiale dello stato di israele e dell'oblast autonoma ebraica in russia vi fa ricordare qualcosa ricordatevi che questa razza si chiama si chiamano i caucasi ok e i caucasi vi ho fatto vedere la loro casa che viene dalla russia c'è un piccolo stato in russia che si chiamava casaria ho messo a parte la foto qui ok questa è la la mappa vedete della russia ok e dell'antichità c'è questa questo è un regno ok che sono questi sono i figli dell'amalek e chi è amalek amalek è un figlio di elifaz che è un figlio di esau ok infatti se andate a vedere la linea dei re ok dei casari avete visto questi sono documenti veri ok se andate a guardare sempre guardando i nomi vedrete vedrete il nome e vi fa capire che sono dei figli di amalek ok e c'è un punto dove ho visto scusatemi un attimo scusatemi un attimo che questo comunque è il lineaggio della loro famiglia ok avete visto avete visto ecco qui amalek ok vedete sempre amalek loro sono i figli di amalek ok e questo è il regno ok sono questi che poi nel 740 dopo la morte di Jehoasai dopo Cristo diciamo sono stati portati ad occupare il paese di Israele questi sono delle ricerche fatte e corrette fate le vostre ricerche anche e che la gente non va a fare queste ricerche bisogna leggere dei libri pregare a padre affinché voi vi può essere dato questa conoscenza qui non quello mondane che vi dicono questi professori pagati dell'università del Pinco Paleno questi questi professori archeologi tutti pagati che nascondono la verità ok questi sono i figli di amalek che sono i figli di Eliphaz come avete visto qui che sono i figli di Esau Esau è il fratello gemello di Giacobbe ed è il nemico di Israele Israele ho fatto i video per farvi vedere che lui è il malvagio è lui che sta che ha il controllo di questo mondo adesso perciò vengono dalla Russia da una parte delle montagne che si chiama Caucasus ok ecco perché la razza con la pelle chiara bianca cosiddetto si chiamano i Caucasus si chiamano i Caucasus perché vengono da qui ok è chiaro perciò sono questi che sono andati ad occupare il paese di Israele ok e andiamo anche a vedere va bene dai non credo potete leggere tutto ok e pregate comunque che il padre vi guida perché su Wikipedia c'è un bel po' di verità ma tanto è tolto e tanto è cambiato e ciò comunque avete visto comunque il punto qui che cosa ha a che fare che cavolo ha a che fare l'ebraico con la Russia ok questa è una bella domanda da farsi torniamo dietro ora andiamo a vedere coloro che hanno detto hanno dato tutti questi nomi qui perché loro non è che hanno seguito la Bibbia anzi andiamo nell'origine e pronuncia del nome il nome in una delle sue forme Yahweh e altre rappresentata una transliterazione in una lingua moderna dell'ebraico biblico parola composto da quattro lettere come abbiamo letto prima ok voglio vedere ok la lingua ebraica a tutt'oggi è dotata solo di lettere da valore consonantico mentre la vocalizzazione spesso è indispensabile ai fini del significato delle parole è indicata ortograficamente attraverso altri segni di diacritici ok notazioni vocaline anzi questi segni diacritici sono i segni spesso che vedete vado a cliccarlo così per farvi vedere che vedete quando quando vedete le scritte ebraiche ora qui devo farvi vedere un esempio vedete dei puntini puntini e questi puntini servono per sapere quale è la e a u vedete questi puntini ok ma non hanno niente a che fare con l'ebraico vengono vengono dalle lingue russe diciamo Babilonia antica anche ok e tanto di yiddish infatti la lingua di questo popolo che vi ho fatto vedere prima i casari era yiddish ok che cosa hanno fatto poi hanno fatto di tutto appena si sono trasferiti in appena si sono trasferiti in israele quando si sono trasferiti in israele hanno fatto di tutto per cambiare la lingua ok per creare una nuova lingua ecco perché hanno creato il nuovo ebraico moderno ed è quello che insegnano non insegnano più questa lingua antica come la lingua in cui la bibbia è stata scritta poi andremo a vedere un po' di cose e continuiamo a leggere e vi ho detto questi masoretti andiamo a vedere i masoretti no qui scusatemi mentre la vocalizzazione è spesso indispensabile ai fini di signale le parole è indicato è indicato otograficamente attraverso altri segni di atletici notazioni vocali che è introdotto in epoca molto più tardi delle consonanti utilizzate dai masoretti solo nel corso della seconda metà del primo millennio dopo Cristo per meglio definire il testo biblico mentre è in discussione che il nome del Dio ebraico è indicato nella Bibbia ebraica con le quattro lettere su menzionate ok su menzionate su menzionate la sua pronuncia resta incerta è oggetto di dibattito sia tra i studiosi sia fra i fedeli delle diverse confessioni che fanno riferimento al Dio di Abramo ecco la mia domanda è che voi potete basare la vostra certezza su questi scusatemi su questi rimbambiti qui ok loro hanno abbiamo dato un nome da seguire che è Yahweh Jehovah e tutto il resto El Elohim e tutto il resto e loro nemmeno sono sono certi sono incerti ok ecco perché abbiamo letto qui prima nel libro dei primi corinzi che dice in versetto 19 perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti al Dio Yahweh infatti è scritto Egli prende i sapienti nella loro astuzia ok tutto quello che hanno fatto qui è l'astuzia ok questa gente sono incerti ok e invece tutti noi tutte le chiese e beh guidate dal Vaticano i figli di Satana ok hanno sposato questi nomi questi nomi Yahweh Jehovah e tutti gli altri ok per guidare la chiesa e il popolo che non capisce nulla e andiamo a vedere chi sono questi che hanno ma prima voglio farvi vedere questa foto qui vi sembra giusto che usano il nome del padre per portare questa cosa satanica questo sarebbe il segno degli illuminati dei così chiamati illuminati che la parola illuminato in sé non è una parola cattiva ma sappiamo che è un gruppo dei dei figli di Satana che governano il mondo le famiglie bancarie ok i politici ok sono coloro che ci guidano i figli di Esau ok e c'è anche un bel po' di israeliti là che fanno parte dei due tezze che saranno distrutti assieme a loro ok e quello sarà un giudizio giusto andiamo a vedere questa parola mazzoretti che sono coloro che hanno deciso questi nomi qui i mazzoretti ok a mazzorà ba'alei ok in ebraico si scrive così furono eruditi e scribi ebrei ok che tra il settimo e il nonno secolo dopo Cristo si riunirono prevalentemente nella città di Tiberide e Gerusalemme per studiare e sistematizzare la Tanakh ok la Tanakh è la lingua ebraica ok gli acronimi ok come scrivere le lettere ebraiche ok questo è una scritta ebraico avete visto questo è l'ebraico moderno che si sono messi insieme a scrivere questi qui e avete visto che questo poi vi farò vedere l'ebraico antico che la Bibbia è stata scritta non ha nulla a che fare con questa lingua qui l'hanno scritto dopo ok l'hanno scritto dopo ok Tanakh ebraico ok intanto torniamo dietro era giusto per farvi vedere che è la lingua ebraica ok moderna ok i mazzaretti ok furono eruditi e scrive ebraiche tra i settimo e non secolo dopo Cristo si riuniranno prevalentemente nella città di Tiberide e Gerusalemme per studiare e sistematizzare la lingua ebraica moderna ok procedettero perché usano questi termini che la gente non capisce che devi andare a fare un sacco di ricerche perché questi sono gli ingani che fanno dovete capire queste cose qui come quel versetto penso nei corinzi ora non mi viene in mente non siamo ignoranti dei passi e i modi di Satana procedettero alla progressiva eliminazione di tutto ciò che essi giudicarono errori deformazioni del tezzo e aggiunte inserite dai vari copisti accumulati nel corso dei secoli e alla minuziosa revisione dell'intero antico testamento per la comunità giudaica avete visto questi qui hanno anche il potere di giudicare qualsiasi testo antico scritto dai nostri padri avevano il potere di giudicarlo come un errore e anche ad eliminarlo ok loro decidevano cosa andava e cosa non andava decidevano ecco avete capito perché perché sono loro questo popolo qui ok gli antichi casari che nella scuola rifiutano di insegnarci è un regno che si è venuto su credo nel settecento come è scritto qui settecento quaranta dopo cristo ok e mi sa sono durati per circa un bel mille anni c'è un libro scritto da coesla ok che il titolo è tetin tribe è scritto in inglese ecco che sarebbe il tredicesimo tribù che lui è un archeologo e geografo ha parlato bene su questa gente qua li ha esposto bene e ha fatto vedere tanta verità che non vogliono farci vedere come vedete la linea il lineaggio di loro famiglia che questo lineaggio portano sempre anche a tanti di quelli si a tanti di quelli qui c'è scritto cinquecento diciamo dai cinquecento a mille quindi il loro regno era stabilito per circa cinquecento anni prima di essere andati poi dopo in Israele perciò ho fatto tutto questo per farvi vedere chi decide i nomi da mettere nelle scritture in che lingua mettere nelle scritture tutto quello ok perciò vi faccio vedere velocemente come questa è la lingua ebraica moderna che hanno fatto e c'è un motivo perché hanno fatto tutto questo e ora vi porto a far vedere la lingua ebraica antica che è scritta in nome del padre ok intanto vi faccio vedere qui il nome del padre scritto nell'ebraico antico così come questo primo e questo secondo ma quelli i masoretti i figli di satana hanno deciso di creare questa nuova lingua la mia domanda sembrano uguali no infatti questo si pronuncia Yahweh ok e questo si pronuncia Yahawa e andiamo a vedere questo anzi prima di farvi vedere questo se voi scrivete su google mesha stelle c'è questo questa pietra ok avete visto mi sa in un museo mi sa ah si ecco c'è scritto anche qui museo del louvre ok penso che in Francia o in inghilterra ok e questa mesha stella in poche parole era un re dei moabiti ok i moabiti ricordatevi chi sono sono i cinesi di giorno d'oggi ok il re dei moabiti il re dei moabiti ha scritto quando aveva preso ok inschiavito i figli di israele e scrivendo pur il nome del dio degli israeli di Yahweh ok e qui ho una foto molto più avvicinata che vi fa vedere questa è la stessa pietra ok e vedete come è scritto il nome del padre avete visto era la stessa cosa come qui avete visto avete visto che è la stessa cosa così è scritto il suo nome poi i masoretti i rati di israele di gerusalemme che occupano gerusalemme oggi che sappiamo che non sono i veri israeliti come è scritto nel libro scusatemi un attimo in apocalisse l'apocalisse 2 9 apocalisse 2 9 e vedete qui che c'è scritto io conosco la tua tribolazione la tua povertà tuttavia sei rico e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono ma sono una sinagoga di satana avete visto questo è il padre che parla a israele i figli di israele sono sotto nella società sono oppressi ok sono i negri così chiamati i negri i latini e i nativi americani ok e questi ricordatevi che non ha nulla a che fare con il colore perché ce ne sono tanti israeliti che sono bianco come i figli di Esau perché ricordatevi che qui in Europa i mori hanno dominato per mille anni e i mori sono figli di israele sono della tribù di giuda ok perciò tantissimi italiani tantissimi spagnoli francesi inglesi soprattutto irlandesi che sono bianchi bianchi come i caucasi sono figli di israele perché tu sei quello che è tuo padre e pensate se un caucasù una donna caucasù si mette insieme con un muro e si nasce un bambino con la carnagione chiara come un caucasù ok e questo figlio ricordatevi anche se è chiaro bianco come il caucasù è sempre un figlio di israele perché lui è sempre del padre come è scritto nel libro mi sa di essodo o genesi che non mi ricordo ora che sei anzi andiamo a cercare scusatemi io scusatemi che leggevi vediamo ah si è in tanti libri comunque andiamo a vedere numeri 1 18 numeri 1 e 18 che dice e convocarono tutta la comunità il primo giorno del secondo mese il popolo fu censito secondo le loro famiglie secondo la discendenza paterna avete visto contando il numero delle persone dai 20 anni in su per uno ok ma ce ne sono altri tanti un figlio è contato dal paterno infatti attraverso la scienza lo sperma che viene dall'uomo rappresenta anzi andiamo questo dovrebbe essere tutta un'altra lezione non voglio sviare questa lezione che sto facendo perciò lascerò per un'altra lezione perciò avete visto vi stavo facendo vedere questa è la pietra ok e altri e qui c'è scritto il nome del dio degli israeliti ok e questo si trova quella pietra la mescela si trova in museo mi sa in ghiterra c'è scritto in museo il museo l'ovra ok dove era ecco si trova in questo museo qui museo dell'ovra vediamo dove è questo museo dell'ovra è in Francia anzi pensavo in ghiterra è in Francia bene comunque torniamo qui perciò io spero di essere riuscito a farvi vedere che questa gente che hanno deciso che nomi dare al padre che tutte le chiese chiamano oggi non sono nemmeno resta incerta non sono nemmeno certi di quello che hanno creato ok hanno creato solamente confusione per chiudere questa lezione andiamo a leggere qualche versetto ok comunque il motivo di tutto questo è perché il padre ha permesso che il nome suo sia perso ok anzi andiamo a leggere dal libro di Geremia ok 17 scusatemi no questo non è il libro di Geremia non riesco a vedere bene ecco qui Geremia 17 4 non riesco a vedere scusatemi un attimo eccoci che dice tu per tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo data e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che non conosci perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arderà per sempre che così parla il signore Yahweh maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana da Yahweh perciò quello che dice qui che perderai l'eredità noi abbiamo perso la nostra eredità di essere israeliti ok ecco perché alcuni italiani sono sottomessi i napolitani quelli di Campania e Sicilia che questo detto questo non vuol dire che i figli di Israele sono solamente lì i figli di Israele sono in tutta Italia perché anche in Venezia se sapete bene la storia c'erano i mori prima i mori hanno costruito la città di Venezia ok prima che dopo è stato poi preso in controllo dai figli di Esau ok noi abbiamo perso la nostra eredità perché abbiamo dimenticato abbiamo cominciato a servire altri dei e il padre si ha punito con questa ignoranza ed ecco la nostra eredità era il nome del padre che avevamo ok andiamo anche a leggere dal libro di Isaia ecco ora vedo bene capitolo 19 leggiamo dal versetto 17 il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto ok anzi tutte le volte che li verrà menzionato e sarà spaventato a causa della decisione presa contro di lui dal signore degli eserciti in quel giorno vi saranno nel paese dell'Egitto questo paese dell'Egitto che sta parlando è la Babilonia di giorno d'oggi che è America dove è saltato fuori tutto la traduzione e la conoscenza del nome vero del padre ok anzi c'è qualcosa che non vi avevo fatto vedere che volevo farvi vedere qui io qui vi avevo fatto vedere scusatemi un attimo qui vi avevo fatto vedere come si vede l'Ebraica moderna ok l'Ebraica che hanno riscritto quella nuova e qui vi faccio vedere quella antica che è questa ok e poi le lettere sono queste questo è l'Ebraico antico avete visto come hanno scritto il nome del padre e qui è il nome del suo figlio come l'hanno scritto ok avete visto che ha le stesse lettere ok del padre perché viene nel nome del padre vedete solo che qui c'è sono due lettere diverse ok che è Yah Ha W Shai il nome del figlio è Yah W Shai e il nome del padre è Yah non è Yah non è Jehovah queste sono traduzioni sbagliate questa è la lingua originaria che è stata scritta e queste sono le lettere e le pronunzioni come si pronunciano ok Yah Yah Shem Yah Ha Shai volendo lascerò questo nel link per chi è interessato e ricordatevi che in queste lettere non ci sono queste pronunce queste vowel la lettera la lettera la lettera la lettera la lettera la lettera non ci sono vedete c'è e questa lingua si chiama la che vuol dire la lingua santa ok la lingua messa a parte la parola santa vuol dire messa a parte ok perciò guarda ecco qui un po' di conoscenza per chi si ne intende per chi ha le orecchie che odi ok e qui vi stavo dicendo in quel giorno vi saranno nel paese dell'Egitto ok America cinque città che parleranno la lingua di Canaan qual è la lingua di Canaan questa lingua che parlavano questa lingua antica è la lingua di Canaan ok questa lingua è la lingua di Canaan perché avete se vi ricordate se vi ricordate i figli di Israele hanno preso il dominio della lingua della terra la terra di Canaan dei figli di Canaan i figli di Canaan sono sempre di canagione scura come loro ma vengono dal lignaggio di Ham Ham ok Ham ok e Ham è stato maledetto perché ha visto anzi forse dopo questa lezione faccio un'altra lezione facciamo vedere da dove vengono i figli dei brevi anzi l'ho fatto già nei segreti del libro di Genesi perciò chi vuole capirne di più vada lì a vedere ok ora torniamo in quei giorni vi saranno nel paese dell'Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan e che giureranno per il signore degli eserciti Yahweh una di esse si chiamerà città del sole ok in quei giorni in mezzo al paese d'Egitto ci sarà un altare eretto al signore Yahweh e preso la frontiera una colonna consacrata al signore Yahweh sarà per il signore degli eserciti un segno e una testimonianza nel paese di Egitto quando essi grideranno al signore Yahweh al motivo dei loro oppressori Egli manderà loro un salvatore e un difensore a liberali e fate attenzione che questo è il libro di Isaia ok sono profezie futuristici e quando vedete la parola Egitto ok la parola Egitto vuol dire schiavitù ok nel paese di schiavitù ok ma vuol dire in questo contesto il paese di schiavitù dove i figli d'Israele sono stati portati in schiavitù che è America ricordatevi che sono stati presi dall'ovest dell'Africa dove si sono rifugiati quando l'impero Titus li ha li ha ha distrutto la loro casa in Gerusalemme nel 70 prima di Cristo no no nel 70 dopo la morte di Cristo ok di Hawashai e l'impero Titus è andato li li ha distrutto e sono scappati sfuggiti in in Africa ok nel continente d'Africa e da lì sono stati presi schiavitù e portati in America sulle barche ok e sta parlando di questa città qui perché la città che sarà appunto appunto sì dell'oppressione è America infatti tutto il mondo seguono America nato gli europei sono tutti assieme con l'America parlano con una sola voce ok e tanti di questi paesi europei saranno distrutti come verrà distrutto anche America ok perché anche loro hanno mano in tutto quello di calunia che ha fatto America e vado a leggere anche spero che avete capito questo versetto qui che chiameranno il nome del Signore come faranno a sapere il nome del Signore che sono gli anziani apostoli della Great New Stone che sono i figli dei schiavi portati in America che il padre ha cominciato a svegliarli ok affinché lo spirito li entra dentro per sapere il nome vero ok il nome vero del padre è tornato ok e andiamo anche a leggere il libro sempre di Isaia e leggiamo da 44 eh 44 leggo dal primo versetto che dice o ascolta Giacobbe quando parla di Giacobbe si parla di tutto il popolo di Israele ok ora ascolta Giacobbe mio servo o Israele anzi è scritto qui ora ascolta Giacobbe mio servo o Israele che io ho scelto così parla il Signore Jehovah che ti ha fatto che ti ha formato fin dal seno mattino colui che ti soccore non temere non temere Giacobbe mio servo o l'esuron che io ho scelto io infatti spanderò le acque sul suolo assettato e i ruscelli sull'arida terra spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampoli ok essi germoglieranno come in mezzo all'erba come salici in riva a correnti d'acqua l'uno dirà io sono del Signore Jehovah l'altro si chiamerà Giacobbe e un altro scriverà sulla sua mano del Jehovah e si onorerà di portare il nome di Israele che nella lingua ebraica il nome di Israele si dice Yasharala infatti se andate a vedere qui sta dicendo che il padre ci darà di nuovo la conoscenza ok ci darà di nuovo la conoscenza ai suoi figli di Israele infatti se guardate un campo dove si pianta l'erba per nuovo l'erba esce un po' di qua un po' di là poi prima di saperne verrà tutta la terra coperta di verde è così ed è così quello che sta facendo il padre infatti se andate a vedere i fratelli della Great Millstone ognuno di noi così ci siamo dati nomi nuovi perciò io il mio nome nuovo che mi sono dato dopo aver conosciuto questa verità è Yara Yasharala ok Yara Yara ed è tutto basato su questa lingua qui che vi ho fatto vedere prima questa lingua qui antica ebraica ok Yara Yasharala vuol dire abbiate timore Israele abbiate timore del padre Israele che abbiate timore di Yaha Israele e tutti i fratelli della Great Millstone tutti hanno un nome nuovo ok tanti si chiamano Yasharala Yasharala vuol dire Israele hanno nomi diversi ok si sono buttati via i nomi mondani si lo usano nei documenti e tutto il resto che devono visto che siamo sempre in questo regno ma si sono dato sono sono dati nomi nuovi ok ed è quello che sta dicendo questo versetto qui e dai leggo altri si leggo un altro versetto e chiudo se no la tiro troppo lungo e leggo dal libro di proverbi ora non sto nemmeno più vedendo proverbi ok capitolo 30 e leggo la versetto 4 che dice chi è salito in cielo e ne è disceso chi ha raccolto il vento nel spopugno chi ha racchiuso le acque nelle sue veste chi ha stabilito tutti i confini della terra qual è il suo nome e il nome del suo figlio lo sai tu è bellissimo questo versetto qui ricordatevi che il libro di proverbi l'ha scritto Salomone e qui sta dicendo lo sai tu chi ha fatto la terra chi ha fatto tutto questo qual è il suo nome e il nome del suo figlio questo nome è un segreto ok è un segreto non è un nome dato a tutti ok non è un nome dato a tutti ok perciò tutti quei nomi che hanno creato i falsi professori i falsi scribera che hanno creato lo stato di israele nuovo sono tutti per ingannarvi ok non saranno tutti a ricevere questo messaggio perché il cuore dei uomini sono altrove il cuore dei figli di israele soprattutto sono un popolo con colo rigido e dice le cose ma preferiscono ascoltare questi scrivi che sono incerti che non sanno quello che fanno che ascoltare la verità ok leggo un ultimo versetto e chiudo e leggo dal libro di salmi 68 e versetto 4 qui se lo leggete nella scritta ebraica qui anzi leggo prima cantate o Yahweh salmeggiate al suo nome preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti il suo nome è il signore Yahweh esultate davanti a lui ok infatti se andate a vedere la scritta in ebraica qui vedrete che c'è scritto il nome del padre ok Yahweh perciò io spero che siete stati edificati i nomi che avete sempre conosciuto Yahweh Jehovah Elohim e tutto il resto potete buttarli via ok sono delle menzogne dei uomini per sviarvi soprattutto per mandarvi sulla corsia sbagliata affinché non riuscite a tornare più a casa ok fate attenzione e comunque coloro che sono stati destinati a ricevere questa verità lo riceveranno ok senza problemi e detto questo voglio lo dare ai padri dare tutti i loro dovuti e sono grato davvero per avermi scelto per conoscere questa verità che mi ha liberato la mente mi ha liberato la vita mi ha dato speranza mi ha dato tutto il padre si chiama Yahawa ok e tutto nel nome di suo figlio il mio re rendentore salvatore il mio tutto che il nome è Yahawa Shai miei doppi onori agli apostoli anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità e pace alla casa di Israele alla prossima Shalawam